Che cosa dovrei capire? Che noi siamo gli indiani d'Occidenti, il suo nome? Tursi, Anthony Tursi. I misteri contorti dell'India sono le nostre lontane radici. Se ancora lo può, non esubisca il maleficio. Sono il conte Frasca di Villafratti. Avrà sentito parlare delle mie sventure. Che tipo di sventure? È il morso crudele del ragno. Tutti i siciliani nascono col morso del ragno. Che fa laggiù, in America? Ha un ristorante italiano. Insegno storia. All'Università di Filadelfia. Da noi è la vita che non ha la storia. Possiedo le più antiche rovine della regione. Dovrà visitarle. Quando ha tempo. Che cosa l'ha portato in Sicilia? La morte di mio padre nel conto.